che a qualsiasi titolo si vorranno bene. La casa era un simbolo tangibile della continuità della propria famiglia, di quella del padre, del nonno, del bisnonno, rievocava la perennità della famiglia, anche come unità economica. Adesso la famiglia è disancorata da questa perennità. Perché? Commento. Perché l'evoluzione costruisce la famiglia del futuro, che non sarà più formata dal padre, dal nonno e dal bisnonno, ma da tutti quelli che a qualsiasi titolo si vorranno bene. L'evoluzione non va mai maledetta, ma benedetta, perché è la divinità che si avvera sempre di più nel suo meraviglioso significato. Grazie. 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 Grazie.